Febo, passati i ballottaggi, tempo di riflessioni in casa di Forza Italia, la vittoria del Partito Democratico è stata netta ed indiscutibile nelle città in cui si è andati al ballottaggio e in Forza Italia c'è polemica da parte anche di esponenti del Partito Nazionale nei confronti del coordinatore Pagano. Ma guardi, intanto si è votato in due domeniche diverse, la prima domenica Forza Italia e il centrodestra è andato benissimo, abbiamo ribaltato situazioni decennali, penso a Penne, penso a Manopello, penso a Casalbordino, a San Giovanni di Adria e potrei continuare. E poi c'è stata la famosa sfida, i quattro ballottaggi di domenica scorsa dove in effetti c'è stata nessuna vittoria da parte del centrodestra e da parte delle candidature di Forza Italia ma che comunque su cui Forza Italia ha dimostrato che un partito vivo è forte all'interno del nostro territorio. Dove le cose le abbiamo fatte seguendo quelle che erano le nostre indicazioni, le mie indicazioni, cioè seguendo il tracciato dei tavoli a cui quando non ce la senti si seguono le primarie serie. Vedi Vasto? Sì, a Vasto indubbiamente abbiamo perso, ma per 121 voti, non mi sembra che sia una grande vittoria del Partito Democratico che governava la città. Il senatore Razzi ha chiesto senza mezzi termini l'azzeramento dei vertici del partito. Ma guardi, io con il coordinamento regionale non mi corre molto buon sangue, però mi ci confronto. Con il senatore Razzi preferisco non parlarci, intanto perché conosco da dove proviene e io parto sempre dal presupposto che chi tradisce una volta tradisce sempre. La seconda cosa, mi sembra che il senatore Razzi si era impegnato in campagna elettorale a Roma, prima come candidato sindaco, poi in appoggio di Marchini. Mi sembra che non si sia né candidato a Roma né abbia mai partecipato a nulla in regione Abruzzo, in nessuna convenzione. Allora, prima di fare quelle affermazioni magari si facesse un lungo esame di coscienza.